Piazza Carlo Marx si rifà il look. La piazza antistante Lex e Manifattura Tabacchi sarà interessata da un intervento di restyling che permetterà di migliorare aspetto e funzionalità. Verranno rifatti i marciapiedi, sarà sistemata la pavimentazione, rimodulate soprattutto le uole sistemate al centro della piazza, dove verranno eliminati gli attuali alberi che creano problemi di igiene per la forte presenza di nidi e di uccelli e che saranno sostituiti da altri alberi più piccoli. Gli attuali alberi invece verranno piantumati nelle aree dell'aeroporto e nella zona di via Biscari. Ci saranno anche nuovi parcheggi a spina di pesce. Sarà sistemata anche l'area antistante alla scuola Saliceto in via Veneto. I lavori andranno avanti per 120 giorni e costeranno 120.000 euro. In primavera saranno completati. Questo è un progetto di riqualificazione di piazza Carlo Max. Questo progetto coinvolgerà anche la via Veneto. Saranno rifatti i marciapiedi antistante alla scuola, dove verranno creati dei parcheggi. Per quanto riguarda piazza Carlo Max verrà riqualificata, come dicevo, poc'anzi. L'opera consiste nella realizzazione di parcheggi e chissinovo, la sistemazione di entrambi i marciapiedi e quindi la ripiantumazione di nuovi alberi, in modo tale da riqualificare l'intero spazio e renderlo molto più vivibile e accettabile. Aggiungo un'altra opera molto importante. Andiamo a riqualificare anche il discorso del centro faunistico, nel quale prospetto verranno inseriti dei lavori fatti dell'Istituto d'Arte. Grazie.